Un vero e proprio dossier stilato dal Movimento Abruzzese dell'Acqua è basato su planimetrie prodotte dalla Terna, società realizzatrice del tanto contestato elettrodotto che dovrà unire Abruzzo e Montenegro. Si legge nelle pagine presentate quelle che sono state definite 20 criticità sottovalutate dal capitolo rischi tra le quali emerge il rischio frane, il rischio idrogeologico e infine la presenza di un'area di stoccaggio gas laddove dieci anni fa era esplosa una già esistente. Abbiamo proprio a ridosso dei piloni 60 e 61 un incidente nel 2005 che praticamente interessò il gasdotto che esplose proprio per una piccola frana e creò un vero e proprio geisler di 20 metri d'altezza che richiese all'incirca 12 ore per essere spento. Dicono i rappresentanti del Movimento dell'Acqua è impossibile sottovalutare quel rischio è impossibile che non compaia negli atti. Siamo stati noi comitati ad accorgerci di questa grave presenza. Il Forum del Movimento ha inviato il dossier a tutti gli enti chiedendo loro controllo in merito alle criticità rilevate e soprattutto per riesaminare i pareri delle autorizzazioni favorevoli rilasciate. Noi ci aspettiamo innanzitutto una cosa, che la politica diventi attiva, quindi si prenda carico di questa situazione gravissima, perché ad oggi c'è un silenzio assordante da parte di tutti gli enti, da parte delle amministrazioni comunali, della provincia e soprattutto della regione. E quindi alla luce di tutto questo ci aspettiamo che innanzitutto ci sia proprio un analizzare concretamente la situazione e poi vedremo comunque sicuramente uno stop immediato a tutti i cantieri.